La yucca, il tronchetto della felicità. Allora, la yucca elefantis, è il nome perché sembra un po' la zampa di un elefante. È una pianta che in Italia, in certe zone, può essere coltivata fuori, mentre solitamente il nodo Italia viene coltivata all'interno come pianta da interno. È una pianta che resiste fino a 5 gradi circa, va collocata in una posizione luminosa, ma anche in mezz'ombra si adatta. Se riusciamo a metterla fuori in estate, ma anche già in primavera, fino a autunno, in oltratto lavorerà molto di più che stare in casa. È una pianta veramente facile da coltivare. Va irrigata poco, a terra completamente asciutta, e va concimata regolarmente, una volta ogni 15-20 giorni. Tende a svilupparsi molto in altezza, quindi ci ritroveremo con delle piante che tendono anche a arrivare a soffitto. Per chi può piantarle in giardino, che si trova nelle zone costiere, nelle zone più miti d'Italia, va anche bene. Però invece per chi ha la sfortuna di poterla tenere solo in casa, una soluzione drastica è tagliare semplicemente il tronco, tagliarlo perché è diventato troppo alto. Come potete vedere qua l'hanno tagliato e l'hanno coperto con del mastice, in modo che copra la ferita, ed eviti che prenda dei funghi e che bacisca. Dove è stato tagliato, come potete vedere, sta facendo delle nuove ciumelle, delle nuove foglie. Se noi la tagliamo anche a un metro d'altezza, perché vogliamo ripristinare una pianta con un'altezza gradevole e consa al nostro appartamento, non l'abbiamo capitozzata. E quindi rifarà la chioma da dove l'abbiamo tagliata, quindi si può gestire anche in casa. Poi addirittura col tronco che abbiamo tagliato, se vogliamo, possiamo metterlo in un terreno, in un vaso pieno di terriccio sabbioso, tenderà a vivegetare. Quindi ci ritroveremo con una coltivazione di yucca e saremo ovviamente molto felici. La yucca è molto particolare, perché se la piantiamo fuori tende a fare dei fiori bianchi. Vediamo queste pannocchie bianche, in caso tende a non farla. Tutte le misure di yucca le trovate sul sito sassigarden.com e spediamo in tutta Italia.